Il tagliaccio è ovviamente sentito una strage, un incidente stradale su cui si sta indagando e Risingero va copiato anche fisicamente proprio Matilde Villa a provare a penetrare bell'arresto contro Verona, l'incrocio l'appoggio altamente piedi per terra, una tripla, terzo l'imbalzo offensivo da parte di Meldere ancora un po' stesso con Makurat che va su e guida la transizione, va via a Bercani, velocissima e poi l'assist azione, in questo momento è una squadra che è tra le top di Euroliga dopo intanto Makurat Venezia che avrà appunto problemi di sentimenti, adesso vediamo qui e ancora a segnare il tentativo, il recupero difensivo di Bercani ma il possesso rimane per Schio e qui è bravissimo Juana Pan, il blocco di Makurat, si alza Francesca Pan, la capitana e questo è tante giocatrici sul cambio Dera e Leoro Granata che attaccano ancora con Bercani l'assist quando manca 6,44 a fine del primo tempo Annamakurat, la Polacca Canessi di ritardo pronta ad entrare Lorela Kubai dunque un centro titolare Bestagno contro Pan Martina Bestagno operazione di tiro con Matilde Villa contro Juas alza la parabola, l'errore il tap-in da parte di Lorela Serie 1 Tech Find si è raffreddata Ghirantes ma non si sta Bell'incrocio di Lorela Kubai che sbaglia ma recupera il rimbalzo poi serve per Matilde Villa tra i 9 e i 7 punti di vantaggio ci prova Parks per le riprese tornata Laura Meldere mentre attacca Anja Makurat che gioca a 2 proprio con Meldere poi Makurat per Bercani che non si prende il sottomano preferisce gestire il possesso servire Villa Makurat Meldere tocca questa volta non riesce a concretizzare corre Parks che ha di fronte Makurat è gran canestro si continua a correre anche in questo secondo tempo beh il cambio di direzione di Matilde Villa gran giocata Makurat prova a far saltare l'avversaria trova l'assist ma ha extra passaggio Meldere poi è Kis Sottana l'uscita di Meldere bene battuta Meldere poi lo scarico bella azione di Spio canestro di U Makurat per Villa pronta a rientrare Nicolodi parte Makurat Mercani suo Kis ma arriva l'errore e cadendo a terra Cuba prova da 3 punti Passina non va la lotta all'imbalzo Cuba e e Makurat da 3 non fischiato non fischiato arriva la tripla controllo dell'inerzia anche se ha un solo possesso di vantaggio adesso deve riuscire ad attaccare perché Schio alzerà sicuramente l'intensità di Pesiva è il momento che Schio potrebbe cavalcare per riavvicinarsi Girantes sotto mano non ma insomma vediamo adesso l'azione Verona la palla ricevuta da Makurat che ci prova da 3 punti la tripla mazzermite ora Martina Bestagno che si carica la sua squadra terzo fallo è di Fessina Villa lo scarico per Cubai palla in angolo Pan la tripla della capitana Villa accelera un barco un'autostrada e inchioda la doppia cifra di vantaggio la 5.32 ripetiamo i presenti questa sera al Taliercio l'assist da Luke da parte di aperta giocatrice tocca Fassina la palla ancora per Schio Sottana dall'angolo la tripla segno verso la top scorer Fassina ancora Pan con la difesa di Schio si prova Pan da 3 punti io mi limito di dire alimentazione a Girantes la tripla frontale Schio è lì si appende alle tripline 3.13 ancora un'eternità nel basket Fassina cambio di direzione su Parks l'appoggio il tabellone vincola per la squadra di Cochumazone attenzione a Juas la tripla ancora per Schio che non si arrende il pressing di Makurat e già recupero da parte di Fassina ma Makurat qui ha fatto una difesa siamo nell'ultimo minuto non ha gestito sicuramente al meglio l'attacco pronta ad entrare Francesca Pan la difesa di Makurat la famiglia per Schio e per Rumana Reier arriva il terrestre della staffa qui Lorela Cuba è di Schio con Girantes step back tentativo l'errore finisce qui Rumana la partita davvero lì come a Wokujer e adesso Coach Mazzone per Andrea Minazzi e adesso